depretore vincenzo depretore vincenzo s'arranciava campava a buon iddio come si dice figlio di padre ignoto senza amici facevo un mariolo per campare marciava bene ho vestito l'inglese a scarpe ma cassino su misura a camisa la stefana pittura a cravatta ma roba tipo non sa facevo come faccio rita nè con un amico nè con un parente campava solo non leggeva niente muo codice o poteva declamare per una manovra fornuto in fieta un scippano a bazooka e tarinta nemmeno un pizzo come staccia finta che la foto potete ne salvare l'ammonimento già l'aveva avuta due volte sorvegliate speciale si spazzigliai una pasca e due natale che uscita la pava secca e che cantava quando accetta a vicenza ci pensava se da perdere un nome di pretore si non trova una santa protettora che mi protegge in terra e in al di là e chi sceglie chi piglia finalmente chi le che cerca trova pensa e pensa si sceglietta non santi conseguenze che a me le risse in cielo non ci sta pata gesù ma ritrava maronna barandata a sant'anni e san giacchino se non mi può proteggere a puntina qua san giuseppe mi proteggerà rubava la sanna fiorella una furtta una lumina e due cannella era caro due porcherine di me la san giuseppe lo faceva rispettato che io mantenevo il 19 di marzo io ne san giuseppe addirittura si si trovava un coppa a quest'ora non si stavo guida ma anche là campagna questo passa si capisce pure si ti protegge un po' d'eterno coccorone ci sta pure all'inverno campizza a cora per scombinare a piazza municipio una mattina sfilando il portafoglio a un signore chiesto chi all'est ferma dei pretori un cadastro con tanta abilità in faccia un camion e non contenta di averle subito cadere una macella o lasse mette manare il portale e tira senza scrupoli e pietà depredore caretta è morto è morto non ora no respira ancora la zaino a terra e l'esso sopportare nel rinda una carruzzella può salvare mezzo stonata a mani non fermiere una fede in maricina l'affugava e mentre un quirurgo si accostava depredore già stevano al di là chi pietà fuori e con un cammino di mussolino palla di scaruso era un norsino poco curioso ma l'anima sevesse non così all'era sbattiana si ferma il foro palazzo di dio non sopportano spostare con forza una manigliata uno sbattendolo due volte per chiamare il portello quadrato si rapette e con la guardaporta si affacciare una capa di provolone che ha spiegato il nome con un nome patria e qualità e a chi volete voglio a san giuseppe ma siete atteso siete conosciuto e sono addirittura ben voluto san giuseppe ma fatti stagli qua allora ci tenete appuntamento e così credo voi dite depredore chi le cava sceglietta protettore lo sapevo che è morto cadda fa se ci ho detto spurti il depredore depredore si è detto vassa che si allontanava dopo poco si è detto che tornava più svelta e risoluta a camminare allora per non spurtire la nata foto avevo provolone tutta amareggiata ricetta depredore ti sei sbagliato san giuseppe ha risposto è caggia fa se è morto se mettesse in mezzo i morti chi usava su vicenza depredore stiamo parlando con il nostro signore o qual ha rito lascia ci parlava piccino se rimanette pensierose poi ricetta ma questa è mala fede se su conto su fatto non so creere il lampada se sapevo consuma è meglio che ci ha donato a volta facendo la capire che sono decisa se non trase il romano ma la reese faccio correre i guardi dall'al di là. Ho aspettato così una mezz'ora si sono detto che lo portone si arrabbi e tanto il rumore che faceva vicenza si sono detto di sconocciare poi quando si arrabbi tutto quanto avrei detto a san giuseppe che scendeva uno scalone indurato e che diceva ma chi è Tu depredore, chi sarà? E depredore con una faccia d'ostro e ho fatto incontro con una mano stessa? Sono depredore, ho filerato un riso, mi hanno sparato una mezz'ora fa. Ti hanno sparato, oh povero vaglione. E chi è stato a fare un malamento? Ma allora voi non sapete proprio niente. Voi imparavise che ci è stato a fare. L'avete sapere che si sono morti è certamente pure colpa vostra. Io rubavo sicuro, a bella posta, sapendo che ci stivano voi qua. Se che tu sembra il tuo Mariolo, non è no. Ma che sono morto sono con questo. Il Mariolo vive, si fa questo, non lo fa per morire, ma per campare. È giusto, rispondendo San Giuseppe. Però il suo ragionamento è difficilmente in un momento che è una legge antica che c'è stato. Chi ha roba in vita è sempre Mariolo. E dopo il morto resta segnalato. Se il Mariolo fosse fortunato, il fuoco eterno, che c'è stesso a fare? E' un po' di ricetta. Io non posso capire tutte queste leggi. Chi è San Giuseppe che protegge San Giuseppe? Che ci ha dato a pensare. Prima di tutto, ricetta San Giuseppe. Questa protezione, sì, me l'hai cercata. Tutte le hai viste e tutte le hai pigliate. Non capisco perché te l'avevano. Overe. E tutte quelle figurelle che voi fotografate e colorate. In certe volte mi sono depitata per il cannello e per l'oglio. E ora che fa? Ora mi ricetta che c'è stata una legge che la Mariola è sempre segnalata. A me se non mi avessi risparato, forse è morta per fare, ma San Giuseppe. Ora, tanto bello, non faccio le mie storie. Parlate di confidenza con il signore. Ricettela. Vicenza dei pretori l'ha già protetta e io lo faccio restaccare. E si mi dice no. Peggio per voi. Che allora con coppa non contate niente. Perché le gaggi spise, stregni niente, ma voi avete perso la dignità. San Giuseppe non poco pensiero se abbia il po' scalone a malincuore e se trovava in presenza lo signore con lui c'è in terra per non guardare. Giuseppe, cosa c'è? Caro maestro, ma trovo con me giuda e con me stata? O certo è che mi sento scongiortata. Non so se come avessi a cominciare. Forse c'è una Mariola morta che si chiama Vicenza dei pretori. Siccome mi scegliete il protettore, giustamente vuole essere staccato. San Giuseppe, ma te fossi rimbambito? Una Mariola. E dici giustamente. Ma tutto si è stuonato veramente. Questi avicciai che ti fa parlare. Che c'entra? Voi direi, non siete vicci. Anzi, se ci pensate, mezzo a noi io vicciacono per si dovuce. Insomma, che si tratta di dignità. Il pretore rubava, il signore. E' morteciso perché sa ragione. Si era fissato che ha la protezione. Ma perché c'entrava il cannello? Perché si può trovare un'opendimento. Comunque vada, io come moglie seguo la sua strada. Una moglie fedele, che sta fa? Gesù Cristo ricette. Io sono con i figli. Che faccio? Che faccio? Che lascio subito. E con quale cuore? Specialmente mia madre si è in amore. Io mi ne vado con il papà e mamma. Sant'Anna fece segno a San Giacchino. San Giovanni, con il padre Salvatore. L'angelo Gabriele, l'annunciatore, pure se lo voleva spalmare. Tanto che ho parlato di Enes su sette stranano. Fermi tutti, dove andate? Se ho veramente scelto di venire il tuo paraviso, non lo posso fare. Tutta la Sacra Famiglia si è fermata. Io aspettavo la parola del loro signore. Va bene. Fate entrare a questo depretore. Almeno mi avevo facito interrogato. Depretore tra sette. Vieni avanti. Tu ti chiami Vincenzo? Sì, signore. E di cognome? Faccio depretore. Tuo padre? Depretore fui mamma. Come sarebbe? Sono di padre ignoto. Non capisco, ma è ignoto di che cosa? Che quando sulla terra non si sposa, e i figli non si possono dichiarare. Ma i figli sono figli. Niente affatto. Voi, voi credete che sono tutti uguali. Ma i figli in terra, se non sono legali, cambiano come panno. Che non fa? Ma c'è la Chiesa. Come se non ci stesse? Non c'è una strada vecchia per una nuova. C'è stato che il padre fa, se lo trova, è diventato legale, chi l'ha là. Non ho capuzziato il padre tenne la ricetta. Ha già capito la fatta riella. Perciò tu hai diventato questa marioncilla. Noi sì, ma solamente per campare. Senza un padre che è andato alla scuola, campare abbandonato in mezzo alla via, facendo solamente la mia famiglia, se sape che fornisce il barbà. E sono campaglione, quella gente che può mantenere la pulita fuori, quando il mio figlio non è nato ancora, non è conuto il diritto di campare. Se la città non cuore, le creature, senza pietà, le re ne pazziano, parenti e amici usano e non usano, e se le vanno a tornare a verità. Ovvero, per te, se la città ci si prima di nascere, dove vanno? Vanno in baravise e non usano. E voi non ci potete spiegare? Dove sei nato? Sono napoletano. Pure perché se stavi scombinato? Per Napoli ognuno ha studiato per bere come aveva un'anguia, però senza volerlo, per progetto. Caro maestro, con la mala fede, con l'arma che si vede e non si vede, con la colonia e con la falsità. Ma c'è il governo. Non ne sape niente. Sembroglione che legge pure loro. Non c'è che fa. S'hanno imparato il cuore che a Napoli si vengono per cantare. O peggio surdo è che non si è andato a posto, perché se voglio fare una vita onesta e nessuno mi aiuta, che mi resta? Industrializzo la disonestà. Un minuto di silenzio. Ho fatto a terra con una santa pacienza, se sono sette, con una voce ferma, poi accetta, che sto napoletano resta qua. Poi si chiamai a San Giro. Sì, ho sentito che ho fatto il creatore. La gente dice, rispondete a San Giro, Baravese non c'è più posto per ricoverare. Arrivava una giornata a San Giulino, e io dicevo, scusate se vuoi dire, ma i pataterni fossero nemici. Sti mezzi creaturie, che ne fanno? Quelle capuzzele rosse, forme vera, che da te la zaccata e le due gnoze, parevano picchiarielle pensierose, che stanno agendo, un'unica infamità. Non ho già fatto nottata, presso all'ora, attorno a tutte quelle spalluzzelle. Ce ne ho già misenquenta pomadella, miei sceglie non potevano spuntare. Ricetto pataterni. Non fa niente. Non vuole rarne mai a San Giulino, che fa? Sono piccirile, piccirile, e mi porto con me, che passià. E come vanno i fatti, con la terra, c'è stata una legge mia, che non perdono. Chi le carisce a Dio, non sono una donna, si sbaglia, perché la legge mia c'è stata. Non è che tutti gli uomini sono attenti a quello che succede con la terra, però se si scadena qualche guerra, è l'uomo stesso che la fa scadenare. Sembra gli rende la stessa cattiveria, sembra che la vannetta, che la malizia, si accida, si accida e fa giustizia. ma è sempre la legge mia che ciò fa fa. Andate tutti a letto, domattina vi sveglierete nelle prime ore per spiegare a Vincenzo dei pretori in paradiso come si sta. con una mezza rosatela e con una mezza rosatela e con una mezza zinchina si abbia in a maglia canna mare si cuccaina e pensano che la roba non si danza. non si sa. con una mezza e con una mezza la sera abituata a sentire in paravisi i miei canti che la notte tutto quanto non ne sentiva ma anche i poverti. e con una mezza si finiva ad eterno il signore che la sera nata non potete dormire tutta la nottata pensare che discorso aveva a fare. Chiara di urna fece la donata e dice capisco il malumore a voi vi fa favore dei pretori che è marungie e che vi può rubare state tranquilli ne rispondo io chi se perciò si chiamano paravisi lì è sicuro pane ben diviso né dei pretori che ruba sta fa gli santi si guardavano tutto in faccia e tu non hai una più bella pasturale come a quella che canta a Natale e per Vicenza che fa le città a poco a poco tutto questo cuore e tutto questa musica fornita un bel temperatore si sono detto a stanchezza un ruolo che non va poi una voce cristiana uno diceva fatelo dormire ripiglia il polso ma non può capire complimenti dottore se ne va con l'occhio e mezza aperta la paretta e avere una figura roma anziana con una foglietta con una penna a mano e che diceva o posso interrogar nata a voce ricetta con prudenza tu ti chiami Vincenzo si signore e di cognome faccio depredore tuo padre ve l'ho detto poco fa nata a voce ricetta su coraggio cercate di rispondere al signore mi orsi già mi ha concesso l'alto onore solissimo potevo opportunare ce l'ha girita che era Mario un gel e capacchessa sono morta accisa fatemi rimanere in paradiso tenga promessa e voglio restare qua credendo che parlavo con il signore non si arriva sempre l'occhio del pretore che era